Le nostre osservazioni vengono a distanza infatti da otto anni dalla nascita di Valle Foglia e dove possiamo affermare che tutte le aspettative collegate alla fusione dei due comuni sono andate deluse. Oggi quella che doveva essere una città appunto di riferimento di tutta la bassa valle del Foglia, polo attrattivo per opportunità e servizi, innovazione e anche politica, non è altro che un agglomerato di frazioni anonime dove risaltano situazioni di profondo degrado e abbandono. Mentre in altri territori si emanano ordinanze per favorire il decoro urbano, a Valle Foglia regnano le strutture faticenti e pericolanti lungo la strada di collegamento principale. Vediamo bottega, intere frazioni come cappone sono ancora sprovviste di servizi, ancora bloccate lo stato in cui erano dieci anni fa, altre Montecchio in cui invece continuano ad essere concentrate tutte le strutture e gli uffici pubblici, impoverendo di fatto le zone periferiche. Per le zone produttive, in particolar modo quella di Talacchio, non si è ancora capito dopo otto anni se l'intenzione dell'amministrazione è quella di rilanciare gli insediamenti industriali e artigianali o quella di trasformarla in un'area per manifestazione ed eventi. Si continua ancora a propagandare vecchi progetti come quello dell'autoparco, che non è altro che un copio in colla di sette anni fa. A Vallefoglia non è arrivato un centesimo e meno male che il sindaco era quello con più esperienza e per gli investimenti pubblici, spesso sovradimensionati, quanto non addirittura superflui, ci si affida esclusivamente ai mutui. La soluzione più facile è che il sindaco predilige, ma che nel prossimo decennio presenterà un conto salatissimo, sempre a discapito dei cittadini. Un sindaco che fa pensare oltremodo la sua figura, fa pesare oltremodo la sua figura, accentrando tutto su di sé, senza lasciare spazi di manovra a nessuno. Per fare solo due esempi, il presidente del Consiglio Comunale, con identità di 300 euro al mese, completamente succube della volontà del sindaco, non in grado di garantire i diritti dei consiglieri e di tutelare le prerogative dell'Assemblea. Gli ascensori eclissati dal primo cittadino non decidono su nulla, se non dopo aver ricevuto il suo benestare. Alcuni di questi, esempio l'assessore Gattoni, si sono visti costretti ad aprire canali informativi, personali su Facebook, per ritagliarsi un po' di spazio. La macchina comunale è ingolfata, non c'è mai stata quella riforma dei servizi e dei settori, promessa nel 2015. I dipendenti sono in drastico scalo, tra pensionamento e mobilità. Chi può se ne va oltre, gli uffici sono in grave sofferenza, esempio l'ufficio tecnico e Anagrafe. L'Unione dei Comuni, l'ingimirante esperimento politico-amministrativo degli anni 90, è miseramente naufragata in un mega contenitore insulso ed inutile. Otto comuni che poco nulla hanno di omogeneo, che nulla produce, e a malapena 40 delibri di giunta all'anno, che non eroga servizi diretti e che ormai è solo nei lontani ricordi dei cittadini. Però il costo rimane. Da ultimo, un cenno su questi ultimi due anni di pandemia, periodo estremamente difficile per famiglie ed imprese, in cui tante sono state le restrizioni e pochi ristori economici ricevuti. Ecco, in questo poco, Vallefoglia si è distinta per non aver recuperato un solo euro dal proprio bilancio. Grazie. 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 Grazie.